Ci stiamo avvicinando all'ingresso del condominio di via Carlo del Greco. Ed ecco il presepe ancora da inaugurare. Questa è la situazione che si presenta mezz'ora prima dell'inaugurazione. Questa è la situazione che si presenta mezz'ora prima. Questa è la situazione che si presenta mezz'ora prima dell'inaugurazione. Questa è la situazione che si presenta mezz'ora prima dell'inaugurazione. Questa è la situazione che si presenta mezz'ora prima dell'inaugurazione. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti.